Incidente sexy per Yvonne Shaw, attrice, ex di Nonela Rai e protagonista di tanti film, da infelici e contenti di neri parenti, a stasera a casa di Alice di Verdone, fino al nascondiglio di Pupi Amati. Yvonne, 47 anni portati benissimo, ha sfilato al Film Festival di Los Angeles insieme al celebre fotografo americano David Lasciapelle, che per farle uno scherzo ha iniziato a stuzzicarla, alzandole il vestito, fino a farla cadere per terra insieme a lui. E il risultato è stato che i fotografi presenti, che hanno immortalato la scena, hanno verificato con i loro occhi, e obiettivi, che Yvonne, non usa la biancheria intima. Niente mutandine, e la figuraccia o tè servita, come mostrano le foto. iscriviti al canale. Grazie.